Tengono anche un piccolo momento, diciamo, dopo due anni di tutura pandemia, di riapertura della biblioteca verso la città, verso il sociale, e quindi un momento importante, cioè la presentazione dell'avvio del progetto relativo ai progetti di utilità collettiva, che prevedono l'utilizzo dei percettori del rezzo di cittadinanza all'interno di attività culturali, sociali, insomma, di una serie di attività. Il progetto è stato avviato dall'assessorato alla regione, dall'assessorato all'attività produttive e culturale della regione Abruzzo, e qui rappresentato dall'assessore Lamario, che ringrazio profondamente per essere qui con noi oggi, con un segnale importante di attenzione verso la biblioteca, verso questa struttura storica, tanto importante, che è stata trasferita, come saprete, per effetto dell'avvio alla regione Abruzzo. Io lo ringrazio per essere qui, ringrazio il Comune e il Sindaco per la collaborazione profonda che è stata data a questa orientazione di questo progetto, e passo a loro la parola, assessore. Grazie.